Ciao amico visionario, amico di Visionaire.fm, benvenuto ad un nuovo appuntamento con le Vision News. Sei un fan di Star Wars? Allora ti farà piacere sapere che sono iniziate a Londra le riprese di The Acolith, la nuova serie tv legata al mondo di guerre stellari, descritta come un thriller ed è ambientata negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica, circa un secolo prima della storia raccontata nel film La Minaccia a Fantasma. Disney Plus ha reso noti più dettagli sulla trama che finora era stata mantenuta top secret. Quello che sappiamo è che la storia racconta di un ex padawan che si riunisce con il suo maestro Jedi per indagare su una serie di crimini che li porteranno a scontrarsi con forze più sinistre di quanto potessero aspettarsi. Oh, mistero. Nel cast, tra gli altri, Amanda Stenberg, Lee Jungie, ovvero il protagonista di Squid Game, Manny Jacinto che abbiamo visto in The Good Place e Nine Perfect Strangers e soprattutto Carrie Ann Moss, sì, quella di Matrix. Che la forza sia con te e se hai voglia di scoprire altre novità dal mondo del cinema e delle serie tv, ti aspetto sul sito visionaire.fm oppure seguimi sul canale YouTube, su Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Alla prossima Vision News, buon cinema a tutti! Grazie a tutti!